Grazie Presidente. Io ringrazio i colleghi per gli interventi che sono utili e hanno rappresentato un ulteriore importante contributo alla discussione. Vorrei però partire dal punto cui ero arrivato alla conclusione della mia introduzione. Parto da un riferimento a una valutazione della regolamentazione che è già in vigore. Può darsi che abbia ragione il collega Gosessa quando sostiene che forse se si fosse applicato in maniera efficace il regolamento, anzi applicata la regolamentazione esistente, forse non ci sarebbe stato bisogno di questo nuovo regolamento. Io ho un'opinione un po' diversa ma la rispetto. Penso che l'applicazione della regolamentazione esistente sia un aspetto importante. Tuttavia il fatto è che ora noi abbiamo questa regolamentazione, questo nuovo regolamento sul tavolo e lo stiamo discutendo e questo avviene perché c'è stato e c'è un certo tipo di dibattito, un certo livello di sensibilità e quindi si è evidentemente avvertito da parte della Commissione, ma già lo si era avvertito anche con la relazione di iniziativa parlamentare del collega Klintz, la necessità di dare nuove risposte. Io credo che abbia ragione Udo Bullman, stiamo attenti su un punto perché se c'è questa sensibilità e questa esigenza di dare nuove risposte, ma al tempo stesso queste risposte che noi diamo vengono percepite e avvertite dall'opinione pubblica come non adeguate, saremo noi come Parlamento e noi come forze politiche, esponenti politici che siamo in questo Parlamento a pagare un prezzo e ad essere sottoposti a critica. Ecco perché io credo che sia giusto continuare il nostro lavoro per cercare di dare risposte efficaci e che funzionino, ma anche risposte che siano coraggiose rispetto ai problemi che abbiamo davanti. Io credo che il principio da cui è giusto partire, ed è un principio credo di carattere liberale, è la necessità di avere una pluralità di voci e di punti di vista che sia possibile mettere a confronto e comparare per avere dei giudizi e delle valutazioni le più efficaci e le più equilibrate possibili. Questo riguarda sia i mercati in generale, sia il problema particolare e specifico che è stato molto discusso questa mattina anche della valutazione dei debiti sovrani. Io concordo con i colleghi che non dobbiamo e non possiamo dare l'impressione che sottovalutiamo o sottostimiamo la responsabilità degli Stati nell'avere accumulato debito eccessivo. Ma non è questo il punto in discussione e non è questo il mio punto di vista. Il problema è che noi dobbiamo stabilire, se vogliamo assumerci come istituzioni europee, un compito e una responsabilità anche nella elaborazione di metodi alternativi e nella espressione di giudizi e di valutazioni su quella che è l'affidabilità degli Stati membri dell'Unione Europea oppure no. Ma se non lo facciamo, lo voglio dire in maniera molto franca, molto schietta, a me viene il sospetto che, come si dice in italiano, questo fa un po' comodo, nel senso che non ci assumiamo la responsabilità e fa comodo avere le agenzie di rating a cui poi possiamo dare una responsabilità. Le agenzie di rating se la prendono volentieri perché io credo che non bisogna sottovalutare la pubblicità gratuita che viene alle agenzie di rating nell'emettere rating o outlooks sui debiti sovrani in determinati momenti senza considerare gli effetti prociclici. Ma il punto è che noi non possiamo dire che non ci assumiamo certe responsabilità perché elaborare metodi alternativi può essere faticoso, ma credo anche che questo non sia un buon motivo per non farlo o per non provarci. Io credo che il discorso che abbiamo fatto stamani non è relativo alla istituzione di un'agenzia pubblica europea che svolga un lavoro di carattere generale complessivo sulla emissione di rating. Sappiamo che questo è un problema, lo si è visto anche nel dibattito, penso a Roland Berger recentemente in Germania, pone anche un problema di costi. Il punto è però che per quanto riguarda la valutazione dei debiti sovrani ci sono le competenze, le conoscenze, le esperienze tecniche per poterlo fare già partendo dalla situazione attuale e dal lavoro che alcune delle istituzioni europee svolgono. Io credo che sostenere come fa Ashley Fox che in questo caso tutti i paesi avrebbero la tripla A significa implicitamente sostenere che allora tutto quello che facciamo in questo Parlamento e nelle istituzioni europee è inutile perché forse anche il fiscal compact o il six-pack sono del tutto inutili. Se noi diciamo quindi che le agenzie di rating possono svolgere un certo compito ma le istituzioni europee autonome e indipendenti no non credo che questa sia una argomentazione convincente anche perché bisogna tenere conto degli errori che sono stati fatti in alcuni casi di valutazione da parte delle agenzie di rating. Io non voglio fare nomi ma fino a qualche tempo fa leggevo opinioni anche di carattere politico come ha detto Lambert per cui si diceva se voi non fate la politica di austerità avrete un downgrade. Dopo qualche settimana le valutazioni erano scusate la semplificazione se non fate una politica di crescita avrete il downgrade. Io credo che questo ponga il problema di un maggiore equilibrio e quindi di una pluralità di punti di vista. Ecco qual è il giudizio che noi dobbiamo cercare di elaborare ed ecco perché io credo che sia necessario riuscire ad avere anche questa valutazione da parte delle istituzioni europee. Io so che questa è una materia esplosiva perché hanno ragione coloro che dicono questo può provocare tensioni ma in realtà le tensioni ci sono già e mi chiedo se non sia invece opportuno avere anche da parte delle istituzioni pubbliche esistenti quella pluralità di punti di vista e anche quei benchmark di cui parlava Sharon Bowles che possono riguardare la adozione e l'attuazione di criteri diversi. Io non voglio essere troppo lungo penso che dovremo tornare e approfondire il confronto sulla rotazione perché io capisco le preoccupazioni di Wolf-Klinz per esempio è quella che in termini filosofici si potrebbe definire la eterogenesi dei fini cioè si cerca di raggiungere un obiettivo ma senza volere quello che decidiamo produce un effetto completamente opposto e cioè il fatto che facciamo la rotazione però alla fine consolidiamo l'oligopolio o il duopolio. Teniamo conto di questa osservazione ma teniamo conto anche del fatto che abbiamo comunque bisogno di norme e di misure con questa regolamentazione che tengano fermo il principio di una maggiore apertura del mercato e di una maggiore concorrenza nel mercato dei rating. Gosesse quando ho fatto la mia introduzione non c'era ma io ho ripreso gli spunti del suo emendamento sulla tender procedure così come delle osservazioni e dei suggerimenti di Wolf-Klinz lavoriamo su questo per fare in modo che comunque superando anche l'eccessiva complessità del meccanismo proposto dalla Commissione manteniamo però questo principio di apertura alla concorrenza di maggiore competizione e di possibilità di abbattimento delle barriere di ingresso di nuovi soggetti nel mercato del rating e della valutazione. Io credo che altri punti che qui sono stati ricordati siano condivisibili mi pare efficace il ragionamento che ha fatto Peter Simon sulla necessità di ridefinire meglio l'aspetto relativo al conflitto di interessi ma su questo punto sono fiducioso penso che potremo trovare una effettiva ed efficace convergenza e penso infine le ultime due osservazioni che sia giusto lavorare come del resto io in parte avevo anche proposto sulla responsabilità civile nei termini suggeriti da Goses per poter anche qui mantenere il principio ma specificando e dettagliando meglio alcuni contenuti e alcuni principi e anche per quanto riguarda la questione dei Paesi terzi io penso che si debba fare riferimento come sia Clins che Goses hanno sottolineato mi pare a ciò che è già stato indicato e stabilito e cercare quindi di partire da lì senza necessariamente riaprire un dibattito di carattere generale io ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti mi auguro che nelle prossime riunioni con gli Shadows si possano fare ulteriori passi in avanti e naturalmente cominceremo a lavorare su prime ipotesi concrete di compromesso per poter efficacemente rispondere alla sensibilità politica e di opinione pubblica che è sul tema delle agenzie di rating in questo momento